All right, all right, per quelli che parlano senza stop, resident DJ Emanuele Piccinino lascia la concerto, ultimo disco, grazie mille, da questo momento in poi per la prima volta un amico, bravissimo, la promessa di Florino, on the road, la track selection, put the fun night, welcome DJ Marcolino, per gli amanti della electronic music, electronic sound, la track selection, Marcolino DJ, la voce Stefano Sapp, il venerdì notte all'insegna del solo divertimento, future fun night, rigorosamente chalet, vi ricordo l'appuntamento domenica di Pasqua, al Millionaire, 15 ore di musica senza stop, suoneranno per voi Davide Montali, Marco Mulgari, le voci di Dark MC, Stefano Sapp, MC Yuri, El Paris, Gradisca, special guest Roberto Molinaro, Maurizio Benedetta, 15 ore senza stop, e anche Alessio Capoglio, e anche Peter Pan Knight, purtroppo suonerà anche Piccinino.